Il succo della questione e soprattutto la grande soddisfazione che si ha a Livorno ad ospitare questo momento di ripartenza dopo il Covid. Perché Livorno, ricordiamocelo, è la città che si scorda alla perfezione con il tema dei diritti, con la comunità, la voglia di stare insieme e la voglia di sorridere. Io ho visto tanti sorrisi oggi.